Le sfide sono tante e sono ancora più difficili, sono ancora più difficili dall'emergenza Covid, noi troviamo un pianeta più povero, troviamo un'Europa più povera, un'Italia più povera, un mezzogiorno e una canabria più poveri, per cui è chiaro che bisogna adottare una serie di misure che vadano nell'interesse delle classi meno abbienti e misure anche di natura sociale, di natura socio-economica che possano alleviare i tanti bisogni che la nostra terra e i nostri conterrani hanno, per cui io credo che sia necessario a partire da oggi scrivere una nuova storia, una storia migliore di una canabria che attraverso l'utilizzazione di fondi europei, soprattutto in questo settore, riesca a dare servizi e riesca a migliorare la qualità della vita.